Il corridore con il numero 65 Gabriele Torcianti L'applauso degli sportivi per Gabriele, eccolo! Vince Torcianti come a Piugi, come in tante altre località Torcianti per il primo, Torcianti Gabriele, il secondo Matteo Minguzzi, il terzo Baccia traguardo al numero 68, Calligaro, a seguire il numero 73, Sari e alza le braccia la prima classificata Partecipa alla premiazione, mister Riccardo Pigolin, eccolo! L'applauso degli sportivi per Gabriele, eccolo! Vince Torcianti come a Piugi, come in tante altre località Primo, Gabriele Torcianti Vince 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 Torcianti